Comenzo la gara abbiamo vinto 3 a 0 quindi già per noi va bene. La gara abbiamo giocato contro una buona squadra che lotta, che corre su ogni pallone. Per oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra non dell'ultima della classe ma di metà classifica. E le prospettive sul resto del campionato? Le prospettive? Noi vogliamo la salvezza che arrivi subito, ci siamo dati male, il giro da data l'abbiamo fatto non buono, cercheremo di fare di tutto per risolverci dalle ultime posizioni. Grazie, mistero in bocca al lupo. Buonasera, sovrato 1. Grazie a tutti.